Ritardi, cancellazioni e inefficienze caratterizzano ormai da troppo tempo i collegamenti ferroviari forniti da Trenitalia, lungo la tratta Taranto-Potenza-Roma. Lo sottolinea il consigliere del PD, Vito Santarsiero, che in un'interrogazione inviata all'assessore Berlinguer, ha sollecitato la regione basilicata di intervenire per migliorare la qualità dei servizi di trasporto sulla rete infrastrutturale regionale. Per noi il mezzogiorno, ha spiegato il presidente della prima commissione, è prioritario all'alta velocità, lungo l'asse Taranto-Potenza-Salerno, come sono indispensabili ulteriori interventi, oltre quelli già programmati, sulla Potenza-Foggia, nonché il completamento della Ferrandina Matera e il ripristino della Sicignano-Lago Negro. Per questo si prende in considerazione l'opportunità, ha concluso Santarsiero, di convocare un tempestivo incontro con Trenitalia, in scadenza di contratto, finalizzato a rimuovere con immediatezza le cause dei disservizi che si registrano con sempre maggiore frequenza.